ascoltare la musica significa riconoscere i suoni non è mica poco riconoscere il ritmo il ritmo è la vita il battito cardiaco il polso regolare con queste splendide parole di stefano bollani vi do il benvenuto nel nostro auditorium virtuale nel video potrete vedere e ascoltare una piccola rappresentanza dei nostri alunni con l'augurio di poter condividere presto e dal vivo la nostra musica buona visione e buon ascolto a Grazie a tutti. 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 a tutti.